Cari siciliani, cari siciliani, l'anno che si conclude è stato certamente il più difficile dalla fine della seconda guerra mondiale. I nostri figli, i nostri nipoti lo leggeranno nei loro libri di storia. In Sicilia abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria alla quale nessuno al mondo era preparato con prudenza e con coraggio. La nostra prudenza? Il loro coraggio, quello degli operatori sanitari, in prima linea, non curanti del pericolo, ben oltre lo spirito di servizio. E assieme a loro i volontari, le forze dell'ordine, i sindaci, i commissari delle ex province, i prefetti. Le voglio ringraziare tutti, anche a nome dei 55 mila pazienti guariti e dimessi dai nostri ospedali. Così come sento di rivolgere un commosso pensiero a tutti i siciliani che purtroppo non ce l'hanno fatta. Dalla sofferenza stiamo passando lentamente alla stagione della speranza, restando vigile naturalmente, perché il virus è ancora tra noi. Ma il vaccino è arrivato e la nostra priorità è continuare a lavorare affinché milioni di siciliani possano immunizzarsi entro il mese di settembre. Anche io, non appena sarà il mio turno, mi sottoporrò al vaccino e lo farò con entusiasmo e con convinzione. Ci prepariamo insomma alla stagione della ripresa, alla stagione della ripartenza. Eppure in quest'anno così difficile la regione siciliana non si è mai fermata neppure un giorno. Governo e Parlamento, pur nel confronto dialettico a volte anche appassionato, hanno dato prova di grande impegno e responsabilità. Abbiamo messo a disposizione dei più bisognosi centinaia di milioni di euro, briciole certamente, ma assai utili. La Corte Costituzionale ha confermato di recente una nostra legge e così chiuderemo finalmente la lunga stagione del lavoro precario. E alla fine della legislatura saranno ben oltre 50.000 i siciliani non più condizionati da un lavoro senza certezza di futuro. Affinché i giovani possano formarsi in maniera adeguata, inserirsi nel mondo del lavoro e, perché no, creare nuove famiglie. Abbiamo dato impulso all'economia grazie all'accelerazione della spesa pubblica, all'apertura di tanti nuovi cantieri e molti altri, ne apriremo a partire dal 2021. Ma l'obiettivo raggiunto, che sottolineo con orgoglio, è l'avere certificato per il terzo anno consecutivo l'utilizzo di tutte le risorse europee messe a disposizione della Sicilia, senza dover restituire neppure un centesimo a Bruxelles. Pensate, dall'inizio della legislatura si tratta di 2 miliardi e 900 milioni di euro spese in Sicilia. Abbiamo ancora tanto da fare. La nostra più ambiziosa sfida è quella di rendere la Sicilia competitiva e attrattiva nel contesto del Mediterraneo. E per vincere questa sfida dobbiamo mantenere lo spirito di comunità. Non lasciamoci dividere dal contagio ideologico. Non lasciamoci sopraffare dalla rassegnazione. Il destino ha chiamato il nostro popolo ad una grande prova di volontà. E il popolo siciliano, nei momenti difficili, ha sempre dimostrato nel corso dei secoli capacità assolutamente ineguagliabili. Ne sono certo. Sarà così anche nel 2021. Buon anno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.